e non siete conquista e ti mette a guardare dietro al suo in b insomma devi guardare b e il reno tutti il resto di scuscia mette sciocchi a cc a cc a con questa la bandiera uno va a controllare b si mette da b si ma contro la dipende dove come si sta ho questo tattia che basta quindi se si scuscia ancora vediamo se no quindi io sono temprate deve aprire midday se che nessuno venga da dietro mid questa è la canzone preferita di per il palalla ragazzi per il palano ma fa un culo pezzi di merdo che avete rovinato vuoi il clon come le vostre cucine del cazzo le vostre ambizioni sta miccia ma io mi ricordo veni in squadra james faceva shadow è uno scarzone james lux è uno spam alto bell non ne parliamo proprio delle paludi lascia questo se vedo che va male per lo dio mi metti bar o ace allora te conquisti alfa e ti metti lì in zona cecchino e coprimi bene guardi mid e coprimi ti permette anche sulla roccia quella di b e stai più vicino le righe forse servono le fumogene mi serve ma ora il culo come passione video di bf4 fumogene saiga frammentazione bambam bambam e si puoi oppure come dice la censura che un coppia che un coppia shop non è un pozzo di merda vieni uno sopra io ho grande dio questo fa arriva già uno pezzo di merda vieni no abbiamo fatto l'altro mi ha fatto l'altro chi che ha lanciato i lanciarazzi a tina e marco io l'ho buttato giù cazzo perché mi ha fatto un po di blocco con l'albero che no va bene l'ultimo tutti a pushare alfa da uno rimane in c guarda b e tutta pushare al spacco l'occhio nel bunker al facevo una donna p3 per ha comprato sopra il buco madonna figli di puttana questo camperone di merda terro ce l'hai a sinistra sopra il tunnel mi raccomando del divertimento ma non stiamo andando tutti insieme occhio da c si vanno da b a c a te ma di occa sta ancora di pezzo si vengono da bremo su ma dove è quello sopra il bunker adesso è spostato dai madonna tolac cazzo è una conquista quando c'hanno sui celaghi sti se ho mazzini che mi becca anche oltre le rocce sul mio corpo ferrore cazzo boh dimmi se vabbè per pusha non trovo non so lancio la granata abbiamo perso l'obiettivo sponato da me sponato da me sponato da me continuo a morire a morire a morire a morire a morire a morire anche io l'unico stronzo cos'è il pavio morire morire occhio nel bunker quello più unico bunker al fanno play davanti dietro facciamo attenzione a james un corso aiuto due davanti occhio fanno effetto dietro bravo e fanno bravo charlie marca nevo sua porco dio sponato nel bunker occhio dentro ai bunker cazzo non mi aggancia nooo sto venuto fuori entra quel bunker di merda stanno amperati lì ma subì nessuno vai press ecco io cambio mi atto quel pd shot rega stanno arrivando io dai andate su alfa io vado su dai che palle ho questo ma dove sta ma non c'era lui mamma mia però questa gente con l'autospot con l'autospot girano madonna mia no rega ci sono io quanti ce n'è 2 2 2 1 ed è fuori abbiamo perso l'obiettivo Charlie ok io ti faccia da te night come ho fatto? ho fatto io il tumore io faccio il tumore io faccio il tumore sono top c top c attento il cazzo ebreo no perchè ce l'ho con gli ebrei ma questo è proprio ebreo c'è james luke se non è ebreo ma questa gente è proprio ebrea vabbè non è che il cazzo eh razzi razzi da arrivano 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 dove son morto io cioè sono con l'assalto sul mio body sparano in easy controllano in culo easy oh guarda dietro alfa guardo guardo mid io vabbè no rega usciamo va in bandiera io vado su c veloce va in bandiera che va in bandiera è un colpo un colpo ma sperazzo un colpo dove cazzo è? oh cazzo ha portato spona veloce james spona 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 quattro di vita ma puè? c'è anche a sinistra anche a sinistra da tutte le parti miccioli questo mi vede mi sciottano mamma mia alfa l'ho preso no abbiamo perso l'obiettivo vabbè regà nemmeno su codi sti ebrei no veramente codi è proprio pulito oh c'è io non lo so i razzi che c'hanno c'è me becca andata a cross them up bene ma vabbè fai non parlare non mi sciottano dai un altro sopra dai fallo non c'è nessuno è sopra oh cazzo ma lo sapevo se ti spawn hacker and sopra questi capangu la mamma aspetta potrebbe ah raga però sempre da dietro c'è ma stanno operando tutti che era quello che stavano oh è di vita ma non è possibile oh che la gola oh che la gola c'è siiii da dietro ma rilussa in pedesco brutta troia puttana sempre da ma ragazzi ma sono quattro in c madonna quattro in c solo ma come è possibile porca miseria oh madonna eh vabbè ma rimudi ma è infatti cazzo pro siiii siiii questo qui col pre fire mi mira la testa siiii 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 sei forte sei molto forte vai io gioco alla su style sto gioco io ho per kill me ne frega nulla io ho per fuck il attenzione ma guarda dietro guarda dietro guarda dietro alfa madonna io se pusho madonna se pusho c'è c'è lo switch lag ma ti vengono si fa come ha fatto vieni 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 guarda si si gioca si incazzata madonna qua un so due 1 o l'orsi ti voto i sono buona roba io ti dire so injured lì cción l'uomo vale 2 entrare in due regali letteralmente quale punti qualcuno quello di alfa non c'era alfa un conto io mi lanciarà rienti file file vedrai tu ci muoci io facciamo una cosa odio pieni segue a me segue a me segue a me che i suoi cazzarato appunti veramente incazzato diamo come cazzo prima erano come erano due volete tumore e night fa quello in metastasi e va bene come ora in metastasi no regalo ciao ciao qualcosa andate a riuscire si 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 va bene se fare spottati è arrivato oggi è a premare il lugo e sta brutta troia sempre in alfa torre c zona cecchino zona cecchino chi c'è in b che ho finito le munizioni per lanciarazzi dietro 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 dai morti rioca grande james cappare andò davanti mi andò acqua 11 ok io me lo faccio lo faccio anche il mouse e mi si rompendo dove ora me lo compro no fra io mi sono no mamma io mi si rompendo io noo ma questo salta resta ma il volo james se ce la fai grande ha danneggiato è scappato dietro mi sa che l'ho fatto l'ho ucciso ok uno fatto capiamo alfa aggressivi capiamo al arrivo cazzo arrivo cazzo rega è morto pure questo capo a 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 capo dai dai ci sono statissimi li ho intaniamo su alio e tutti io ritorniamo su attenti io dai pushate al no c'è la birra renda se vuoi rega io provo a resistere una donna pittana rega adesso no ma mia però questa gente mamma mia però ciao passo al fatto il night e morto vado vado a quello sotto l'ho fatto no ma c'era morto questo tre colpi tre colpi pezzo di merda ma guarda che ma guarda che questo dio ma roba da no l'altro di acquistano pure finchino lux l'aria animata attenzione spara 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 tutto spara tutta la ciai tassi è vinto cazzo tassi è vinto cazzo i cazzo da pusciare con il culo mi rompo vaffanculo testo di cazzo dai ragazzi i musulmani con la crana sto perdendo sono tre scarci nel corto nel corto no che nel corto devi fare il tumore in metastasi ho fatto il tumore in metastasi ma come dicevo io in ciai stavo negli egric mi giravo dritto e sparavo quando arrivavo basta io sotto il letto mi sono messo su cirei io sotto il letto io sotto il letto io non ho spinto io non ho spinto io non ho spinto io non ho spinto io andavo a giurato me lo feca nulla uccidevo me lo feca nulla di nulla andavo mi sono messo sdraiato dietro il bunker quello senza la bandiera di alfa diciamo foresto pelargonne cos'è? si conta anche quella di prima? no 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 quella di prima no lo so crashai mezzi che cazzo di conti crashai tutti comunque ho fatto dei clip su maxi king dopo ho fatto invio ma sicuro che c'è l'altro ma tu dovevi sentire il gruppo zzzzzzz tutto questo rumore no affatto ehi ma è bestiale bestiale proprio si è fermato si è fermato c'è un altro punto della mappa c'è un altro punto si è spostato in buon pariore senza muoversi e scelte del trasporto è Goku il Goku cazzo ma esistono delle pillole esistono delle pillole che si comprano non so un supporto un particolare oh chiama Stefano vai chiama Stefano forse te le dice lui adesso dai dai che io voglio o io torno a fare il tumore su alfa eh oh io pusho me ne feca nulla io ho incazzato nero madonna pusho un malato si si a pusciare a maiale no fratello fratello aspetta ma ma la medaglia di bronzo ve l'ha andata aspetta me la devo rallare se devi pusciare a maiale come puscio io posso pusciare a maiale ah ma se mi fa restare la gonne fate? si a due eh prima secondo side prima hanno fatto crasciare i cyber troppo il chiamato attaccato sti pezzi di merda pingo 38 38 pingo 40 perché voglio clippare tutte le sue anomalie almeno le sue anomalie si si ma voglio la anomalie con quel figlio di puttana che lo è un cancro umano è come il polacco c'è ma ho tutto attaccato chat sim cronus mouse io levo come si come si chiamava ancora su vabbò io io vado alla su style non c'eca nulla vado i migiri io me ne ecco a sussire cazzo bravo si dove vai si su abbiamo conquistato l'obiettivo ah guarda su p no 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 tata proprio oh sembra come yoshimitsu il gioco whatsapp uguale yoshimitsu si si yoshimitsu ragazzi basta c è una pena sua 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 va no e ho visto i messi di troia lì madonna sopra quel fottuto bunker arrivo in thato plenca la plenca la plenca la c sotto 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 la sola 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 l'aspetto ho chiuso a lasciarli è ancora lì non mi fa nulla il tuo cronos figlio di merda mi devi mangiare il cazzo devi mangiare il cazzo è sciottatissimo quello di quelle mc 15 oh no da dietro marilu sempre sta un grande troia arrivano su c e usare provano ad andare su cipro su c andate su alfa davami spawn o rega che cavallo posso alfa c'è un supporto ho spattato un supporto ragazzino 2 guarda si uccide una vicenda no mazzin che sapeva dove ero mazzin che sapeva dove ero ragazzi era bestiale ora da me abbiamo a sinistra night se lo dio l'ho entrato aiuto ho fatto mancazione c'è un altro ancora ancora b y madonna e lì sotto night attenzione ma toccato uno sopra con a caso sono a caso fuori dietro alfa scuola a caso veda me è un pezzo di merda fa male lancia cazzi è io cane austria di merda ti vado faccio poi vado a risposta da una risposta ma non è fosco il dito fa ma fatto sto comunista ipri musulmano bangladino abbiamo perso l'obiettivo c'è via via passare via ho scenduto vedi fai dio cazzo città un pochino che vuole scambi non la posta no no mi ha parito mi ha parito mi ha apparito mi ha perso dietro mi ha perso dietro tre cappi c'è dei fantasmi occhio fanno in giro da me vanno su alfa vanno su alfa vanno su alfa bene eh portavo James da quella parte oh dove è qui dietro James tu cazzo ah l'ho fatto bello no non l'ha fatto vuoi ti corre ma era dietro ma non c'era prima ti giuro fa mi ha partito me la madonna porca troia ma fammi fai il tumore che prima è servito fai sono tutti sotto dobbiamo farmi una doppia porca madonna porco Gesù c'era uno che abbia la buona te responate da me stai qua no no fermi qua su fermi 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 eh scudo a rio a rio d'altra porta dai dovranno uscire mi metto qua con le piantine mi metto con le piede dalle piante 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 tocca anche un cescuglio di poca oh attenzione mi ecco una cassetta aspetta aspetta dove è? è su b praticamente ah l'ho internazionata ma pure ah ti ho preso anche a te ah k la b si si stavo facendo il giro sneaky sneaky no si ah ok dove stanno? da un altro passo vai qui la doppia guarda lì no c'è il tiro guarda c'è il mouse pure io bastardo figlio di puttana c'è il mouse pure io va bene vado questo ce lo cross il cazzo dammi spon eh armato questa è la partita più disumana su ce l'ho mai fatta per ora regali ho scottato la sciottata non c'è un po' non c'è un po' non c'è un po' non c'è un po' ragazzi puscia figlio di puttana puscia sai coraggio puscia vieni ma proprio vieni vieni no no foto fannoci grada james poteva anche del salto grada night fagli l'alfa no al palo house regazzo che mi ha trasportato aiuto cristo dio che prima in lato dammi sponso davanti a te davanti a te trasportare morto vitribeo che cazzo è quello dietro ma c'è una madre non ti voleva domani domani vieni vieni buscia 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 si va addosso il 50 pezzo di merda vieni qui arrivo su aspetta errore registi che devo vieni riuscire pezzo di merda dai cassetta medica rimettete in sesta santo pure mia madre si cazzo occhio dal mito ho l'ha visto c'è se sto finito davanti si ho scritto colpi james vado di pistola c'è una copertura copertura del fondo vieni vieni maxi king su medico con la bava sai proprio merda ora mi sale raga che cazzo è vinto è un tumore di me basta fondo a fondo alfa no non mi avrà ricariato non mi avrà ricariato non mi avrà ricariato l'arma dai mici dai middle chiass dai dai ragazzi a push alfa push alfa madonna cazzo duro vieni vieni maxi king che ti riapro le chiappette vieni sti vergini dal cazzo nooo ci siamo uccisi a vicenda però l'ho ucciso e sto ucciso c'è ucciso a vicenda ma l'ho ucciso cazzo occhio c'è maxi king dietro il bunker di alfa dai dai madonna per il culo te lo giuro madonna per il culo te lo giuro madonna per il culo te lo giuro assolutamente eccola qui io mi metto qui attento 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 attenti no 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 minchia mai arrivato avrà dove no nel tribù ordi alfa una vita dai ragazza raga capiamo capiamo quanto ti odio metto la semplici 08 però mi sa che solo dietro da vino a donna austria più cantinato perciò di tua madre no ma sì che va a tv prefire madonna edito nel non ad abita via bbc c'è un occhio lì davanti è morto a caso date dietro c veloce night veniva conquista veniva conquista forse attivando di tutto attivando di tutto e b rega si può andare una testa fuori e si fate vai a sinistra e guardarci le trova dietro a marco ti trova a marco guardo c'è un gioco in jolly veloce costo il gioco dietro dietro b dietro b dietro b dietro b di errore 2 a miss con che tu da mi sposa 5 di spawn porca madonna dove sono fatto fatto vai vai fatto la donna era sopra il camperone di merda da mille dalla discesa dal dio o no non l'ho ucciso no rega b c'è c'è uno che vi pusciata vieni ora fa una da mille rega attenti da nipo fatto loading si vabbè sono prefire con il righam ha scelto le persone ma è riuscita a caso a caso dai 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 ragazzi sul cisto da scusce lega quello su mitte nostri è sempre c'era marilu per ora c'è l'ho visto l'ho ucciso marilu occhio c'è maxi fai flank su bravo e fai flank su bravo aspetta che sponosi bravo si fai flank di lì dietro dietro che palla questo che palle di ogni caso difendetelo no 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 rega rega ma io la difendo pure col cazzo usciamo usciamo parabile che si vince con una bandiera si fanno non ho dapposito, è un medico, si 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 fà si vince, si fa 30 p, 30 p, 30 p, 30 p, 3 p, 3 p, siiii E non sono andato in negativo per una kill Oh che bello Vedi ostia, ma zichino Vedi questo? Questo è il mio pad Questo è il mio pad Non è Kronos, è pad Questo lo senti pad Figlio di puttana Se mi metto Kronos Se mi metto Kronos Te fai come orecchietta Io l'orecchietta La butto per terra E la spiaccico con i piedi, ecco cosa fa Oh figlio di traia Faccia di cazzo Pranto Pranto Maxi King Oh e rilasciai il server Non ci vedo Ah ok No, 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 meno male Se rilasciai il server è veramente il cuore Li segnalavo tutti, chiamavo Chiamavo zizio, zio, ma Oh c'è questi figli di puttana un po' di cazzo Vedi di bannali Madonna mia Porca d'ora Dai dai Oh sublizzo ragazzi Non voglio scacchi Da morire Proprio da soccombere Qui qui ragazzi Ma lo sapete non devono fiatare Triple cap Pisanta bomba Non devono fiatare Con questo Tutti subito Con questa nuova Tutti su Da tutti i lati Non devono fiatare Sti figli di puttana Non devono Neanche fuori E mi metto in stanza jolly Nascono E muoiano Comunque Oh A 100% Maxi King C'è il switch lag No no Maxi King Io quando eravamo Su Ciletta e Roma Ce l'ho sentito dietro Ho fatto un'altra rip Che voi lo andavate a pushare Due o tre Lui ha fatto due o tre volte Lo switch lag Però non c'è In ogni caso Se l'ho preso nel culo Per scappare Lo switch lag Io ho fatto una cosa In sti due minuti Che sono stato in silenzio Poi vi inviro Lo screenshot Ho ordinato il Venom D'Amazon Cioè no No James No questi Cioè io l'ho visto Di gente usare No no L'ho già ordinato Questi battono Ma questi battono Tutti i record Cioè io non ho mai visto Gente così Cioè ma questi Ma non hanno Un Kronos Sono stato zitto Per nove mesi Come si chiamava Quello di TNT Come si chiamava Quello di TNT Chizzi Montana Chizzi Montana Peggio di Chizzi Montana Sì ma Chizzi Montana C'ha il mouse Cioè va bene C'ha il mouse Ma non ha i shit Questi hanno proprio i shit Cioè con la gente Quello si trasporta Non si sa No 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 Non hanno i shit No 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 Non hanno i shit Questi Hanno i shit Terrore Tu ricordi terrore Sì No no Io me l'ho visto Comparire davanti a Ace L'ho visto con i miei occhi Comparire così Da nulla Eh E ha sparato dietro a Ace Oh Repetizione tra virgolette next gen Sì sì Di cui tanto parlavano Oh io vado su C eh Vado su C vado su C Anch'io 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 C'è già uno Uno ve l'ho spottato Lascielo venire fuori Lascielo venire fuori Questa gente Questa grata Uno ho spottato Come si c'è La scaletta Prodono 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 Lo vedete Lo vedete Prodono Sto quello Regali finiamo Distanze corte Funziona Distanze corte Non funziona Se Esplosono Fasso anche a me Palle Pagano In bot Quello Ragazzi In bot Puro In bot Puro Sto spagnolo Di merda Io ritorno Su C E io ritorno Su C Perché Madonna E non La pistola Eccola Revolver Si incomincia Corre Forver Proprio Proprio Alla Alla Fighetti Guarda No Cazzo Poi René Preso In piedo Occhio Uno Dalla 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 Schiette Lo tengo Di strato Mamma mia No Fallo 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 Lui Bravo 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 Arriva 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 A te Oti Begato Granata Pus Quanti sono ragazzi Ma due Mi sono venuti Di sotto Fatto Uno E' pieno Ragazzi Sono sotto Vanno In porta Due Vanno In porta Due Fatto Oh Dammi Le spunte Che Se Stiamo perdendo L'obiettivo Alfa Ma qui Se Mori Lucco La revolver Azi Ma te Che Cazzo Sci Dietro Ma Fatto Mi sa che Toche Colpito Su Però Metto Metto Le righe Metto Le righe Metto Le righe Anunciato Tipo No Qui Qui Tribla Che Roba Abbiamo perso L'obiettivo Ragazzi Stai L'ho Fatta Alcora Una Partita No Che Se Vinto Sta Perdendo Tazito 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 K K Da Metà 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 Non Coprite mai Maggioli Ragazzi Jolly Madonna Voi con Staci Di Merda Però Colpo Un Colpo Tata 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 Spiegava Tutti Non Sì Gio Ma Vabbè Ma Prova No Regalo C Vai Vai Non Niente Perché C'è qualcuno Ok Non so C'è qualcuno James Ma Ce la Vai Dai Vai 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 Dietro C O In BNB Dai Da Dietro Madonna Da Dietro Questa Jolly La Jolly non c'è ma nessuno non c'è ma nessuno ci sono io su jolly semplice mamma mia che arriva in fondo a charlie james a risponde ma tutti ci fa tutti i giorni o madonna però dara smanta ma push at li push at li alla cazzo non riesco ma che non riesci ma stai non riesco non riesco e ma occhio un banana e sono tutti i ragazzi ma ci accidenta da diretta is basso tutti i ragazzi sono due fissi ma che c'è solo ma c'è uno si tratta sport cialiac c'è il potere quello mori vabbè ma che cazzo buona vai vai andate su davide sponi su jolly dai siamo a metà il nemico è in vantaggio controlla tutti gli obiettivi che poi cazzo non è vengo con te vai 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 grazie ma ce l'ho tutti in alfa e non lo so ma portatore ma mi dite in quanti ce n'è c'è ma portato ma posso non riuscita a conquistare un da c che in alfa sono sette veramente ma poi rispondono sono due quattro da dietro b mamma mia ho fatto io dietro b l'ho fatto k l'alpha james sto capando bravo rega dietro arrivo si amiamo a palla subito difendoci però sono giocchi occhi 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 una mica sua bella ma portate b non mi sa l'avvio gioccioli ciò lontano con i ciolli arrivo arrivo il dato un colpo ma sì che non ho fatto bomba spalato il colpo che da 100 per ha messo il supporto, il supporto fatto bella guarda 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 oddio oddio cosa fa oddio dai austria vanno in alfa vanno in alfa vanno in alfa mamma mi invisibili ragazzi invisibili non li senti non li vedi boh tiro granata fermi fermi tiro granata vabbè estraiato un altro bella ragazzi anche da me in jolly occhio il medico devo prendere un ragazzo mazzine ing e stanno bbbc subì 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 charlie 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 ok prendete sfondo a me arrivo c'è quanto godo no no alfa fuori 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 e nel occhio jolly fermate vincioli uno si deve ferma un jolly c'è su jolly e vabbè no occhio ancora ancora su alfa non mollate non mollate non di voli dovete rompere il cuore questi pezzi di merda vada dai e austro ha fatto doppia la granatina lì occhio ad alcuni espon america porta america porta america il tizio è straiato con support vabbè raga prendi sta gioca contro gli scurti eh vabbè è certo occhio jolly charlie 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 ma è perso da razzo c'è voi vi fregate di risultati e questo mi fa cazzare non dovete fregare dovete andare su le flag no franno io stavo in posizione io facevi giusti usano il palmo della mano e io uso il pollice e quella la differenza in un gioco fluido per bimbi minchia e quello è il punto oltre un tot non posso fare io gioco con quelli che hanno nel pad quelli con il mouse non ci riesco io ho una crashato vai crashato meno male meno male meno male ora mi metto l'automatica te lo giuro ragazzi dovete aprire che se voi li pusciate loro vi smirano vi smirano dovete pusciare più che gli andate sotto e più che vi smirano santo cielo James sta smontando la casa James sta smontando la monzone un povero stronzo un povero stronzo devi usare il pollice e il bimbo minchia di 50 kg il rachitico deve usare il palmo della mano si ma aspetta ma usasse solo il mouse usasse sono quelli problema che ci mettano e lo switch lag e l'autosport ma che non so se riesco a giocare la prossima partita sono troppo nervoso ragazzi no no adesso no dai ma lo vediamo sono nervoso ho le mani nervose pieni di nervosismo dentro bene bene non fa bene devi usciare devi essere il posto devi usciare devi farli terribile quale James ma se mi stai dietro James da letta mi temi devi stare appiccicato perché io puscio io ne fu due ti arrivi appiccino e fai l'ultimo devi starmi dietro io ragazzi cambio giro io non vado più in c oddio si sono america fermi vado in c allora vado in c vado in c metto metto il medico io vado in a io vado in a voglio andare a voglio andare a voglio andare a io capo b e poi vado in a oh uno mi devo aprir da esterno c mi raccomando terro viene a coprire ma esterno c teee cosi come si chiama s conquista b e il resto su alfa dovete tenerli lì oh razza abbiamo vinto due fottute ma appena in argonne santo cielo vinciamo un'altra di qui e siamo a posto oh eh no che palle dai 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 ora metti il bar te lo giuro mi campero nell'angolino di alfa e prendi il bar io lo c'ho messo in bar cassetta medica arriva assaltatore tu abbiamo conquistato un obiettivo bravo ma rendi provonto ma renditi provonto mamma mia ma rendi da razza su c su c c'hai da solo dai l'ho fatto non ho su c viene su avviate su avviate su avviate spondato da lui ai tangenti non puoi stare dietro non puoi stare non puoi stare che non so poi non sto a cui sei a troppo avanti gli fanno spawn vedi 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 mi sconcenti stavo già mirando qui no 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 ho detto non puoi stare che cuscia ma è qua sono morto pure io guarda giochi e persa 4 fatto con i giorni fatti cassetta medica per te l'altro è vuota ovunque rimanete in modo di rimanere guarda io vado in alfa vado in alfa fermi io dove sto qua c'è un limite o una finestra sono morti sono morto sono morto io ho uno e lanciati butti sulle finestre di corridoio sci banana please aspetta aspetta mi stanno arrivando tutti via ma quanti sono in alfa sono troppo il team in alfa tutti il team in alfa fuciateci fuciateci valosci arrivo in alfa si sono tanti in cia tutti straiati dove sono qua preso nonna ragazzo sono le spizzi sciazzo questi hanno solo il vantaggio di mira questi sono solo il vantaggio di mira questi questi hanno solo il vantaggio di mira mamma mia o è bestiale ma li vedo come si muovono non si muovono due dei singoli si muovono male vanno a cercarsi la chi di mira tutta mira tutto mouse gente scadente dentro james jolly 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 fermi preso vai 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 fatto spona meri ho sentito passi lasci una sacchetta james vabbè vabbè arrivo da te siu no vabbè si si spona meri arrivo dietro a sinistra faccio il maxi che ne preoccupate sopra sopra bella ecco cassetta medica anti flank vadovi vadovi un anti flank si anti flank posizione a tre posizione a tre siu ce l'hai sotto siu ce l'hai sotto è morto anche io fatto vanno su alfa no ma vai ma vai la tua mamma puttana proprio è una grande gioia proprio l'acqua le cascia di quelle qualcuno che vado in gioia oggi e james io non ti resto tutto io abito di rianimati no davanti a me occhio occhio nel corridoio corridoio al fabbio cano maxi king con non pigli i coppi sì no con la fumogena riesce e riesce agganciati con la fumogena ti rendi conto di che cazzo che aggancio c'ha occhio ma ha fatto ma con jolly sì bravo ma jolly vieni qui figli di puttana da una sciottata di oggi fino a doma all'altro finché quando la cacca un altro figlio l'ho messo ma dove tu non prendi no austria sua no tutti rega almeno tre almeno tre almeno tre no tutti su astria non pigli pregai va in banana va in banana te che sa in cino parte tempo fa in banana io che do ragazzi dove si è riuscito morto james e di ombra porta di guaio vieni arrivando a porta 2 da andate in jolly poi è stato incendato in jolly maxi king mamma mia rispona 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 ma perché sono sempre solo e c'ero io ma non ce l'ho fatta era un metro ma dai obbligo sapevo da dove venivo guardano guardano e schifo non mi restare non mi restare c'è ma come si può il cap ma come tipo il cap ragazzi madonna però è lasciato ma santo cielo ma io dico ma come ma io voglio la bandiera e si perde si perde la bandiera vado via io un secondo cazzo è cazzo è c'è io non lo so teletrasporto pure la sotto di me era dove cazzo è andato ma dove cazzo è andato madonna astria rega però voi che andate a cercare il cv quei mausati rega veramente siete i geni del mondo proprio del male no va bene no ok c'è uno qua in porta ste granate ragazzi è il bineutra dai dai madonna è morto quello va io sto poco su 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 dove sono morto vabbè l'alfa nessuno la k interessante chiamato pesa io al falla dopo liberare con una cassetta medica stiamo perdendo l'obiettivo c'è ancora ancora su alfa 1 ecco ma come ma come fa ma come fa ma come fa ma come questo ma perché la gente gioca scoperta mi chiamo anche che qui ragina james basta basta una roba cazzo giochi 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 dai mamma mia venite da me su alfa su alfa su alfa arrivo abbiamo perso l'obiettivo 2 2 poi c'è io vai dai attività che vogliono andare su cia non so perché si vada ma non ci vuole vado andare ma abbiamo conquistato l'obiettivo l'obiettivo il nemico in fuga no io sfrutterei di andrei so anche subia dagli noia ragazzi perché veramente non ci si fa e quello dio rega fermi ragazzi faccio una stronzata ma me ne pentirò ma io ci provo non me ne frega però ragazzi si perde stai 100 oh jolly 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 stiamo perdendo l'obiettivo allora la stronzata non fate più stronzata non l'ho fatta a quanto ho capito ma da un numero limbo questo obiettivo obiettivo tutti i suci quando ho fatto uno subito camperone tv tre fatti le ho fatti tre non fatti tre tre vai 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 capo io vado avere una mano su alpo no no di verde rimane di caso ero unio no tutti tutti su ci rega tutti su ci tutti 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 sanno tre ragazzi 2 erano salì madonna no 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 qua dietro visto ciao voglio ste canati ma che c'è il supporto che alla porta ma che studio stavati abbiamo perso l'obiettivo c'è il nostro di preso ma quando a succedere dai marilu l'incredito mirata no se non è persa anche questa persa anche che si fa ci si fa troppo clicciati esti veramente subito non è capisco come dire avere il vantaggio il vantaggio della mira e il vantaggio della mira della mira che la gente usa il polizio lontano lontano e l'oncino è morto dai vuol dire questo di un sacco vuol dire manda via dietro su jolly madonna veramente intitola il culo e stacenti sono il culo conquista per la b arrivo terrore sono vaneto tutti subire voglio poi che corri le tue ferite cassetta medica un sopporto è arrivato arriva su 3 4 4 tutti su ci arrivano poi puoi scendere puoi scendere la bandiera abbiamo perso l'obiettivo cerchi bravi via triplo 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 Regà, difendete! Regà, difendete! Vai! 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 Dietro C! Sì? Vai, vai, dietro C, regà, dietro C! Ci ha vinto! Sì! Scusate! 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 Ma userate di merda! Scusate! Mamma mia! Scusate! 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 Puglia! Puglia! Usate i polli! Ma dai, regà, regà, questa quella partita che rimarrà nella storia... Madonna! Si scrive! Si uvis! Only Mouse! Cheat! Si scrive! Nel coso di Youtube! Si uvis! GTV! Hacking Team! Mamma mia! Regà, l'avete criptato? Regà, 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 regà! Io sono sconvolto dal livello... Regà, regà, regà! Io sono sconvolto dal livello dei giocatori! Che bello! Che bello! Dei giocatori! Io sono sconvolto dal livello dei giocatori! Io non ho parole! Regà, regà, pensate voi se... Non ho parole! Se li sceglieva l'ombra del gigante come finito! No, no! Dopo questa... Io non ho più parole! Dopo questa... Guarda, le ho finì! Dopo questa... Non ho più parole! Regà, eravamo... Regà, eravamo 72 e 98 eravamo! 72 e 98 eravamo! Mamma mia! Oh, ragazzi! Cioè, su Alpha io mi son fatto delle triple! Ma la giocata migliore è stata quella che si è fatta il terreno su B! Terror di uccide... Io uccido uno! Vincita! Terror di uccide il secondo! Io uccido quelli uccide terrore! Sono questa la B triple cap! Madonna mia! Cioè... Quella è stata la migliore giocata! Delle... Delle cose su C che... Ma l'ultima pusciata su B! L'ultima pusciata su B! Madonna! Ragazzi! Terrore era morto! Nessimo morto! Nessimo morto! Messaggio da Obi-Tripe! GG! M8! Che vuole! Che vuole sto figlio! M8! That was a good fight! GG!